Gentili telespettatori, buona giornata. In questo video vi parlo di Chiara Ferragni. Chiara Ferragni è il marito Fedez, il marito è un rapper, un cantante, ma hanno milioni di seguitori, pertanto vengono definiti degli influencer che con quei milioni entrano nella categoria celebrità del web. E celebrità del web significa anche celebrità, realmente. Raggiungono quel numero enorme di seguitori perché lei pubblicizza cosmetici, borse, profumi, quindi è un marketing influencer nel senso che è un'influenzatrice sulle abitudini di acquisto degli italiani, cioè può influenzare enormemente se lei comincia a mettersi una maglietta, diventa alla moda, cioè fa tendenza. Pertanto è un'influenzatrice marketing. Poi ad esempio abbiamo i politici che sono, i capi politici influenzano politicamente, abbiamo i giornalisti di una certa area che secondo il seguito che hanno, porro del debbi o fazio, influenzano l'opinione pubblica in politica. Ci sono diversi tipi di influencer. Lei con il suo seguito adesso dichiara di essere una donna di potere. Realmente è una donna di potere? Sì, è una donna che ha raggiunto una visibilità tale che possiamo definirla una donna di potere. Realmente, attenzione, chi arriva a quei livelli ci si arriva per diverse ragioni. Lei c'è arrivata, aveva aperto un blocco, se non sbaglio, dove si truccavano, ha cominciato a seguirla e ha fatto un iter. Però, parliamoci chiaro, donne e uomini di potere, ad esempio, vi faccio l'esempio di Luigi Di Maio Chiara Ferragni. Luigi Di Maio, uomo di potere, è lì, ma realmente al suo posto ci potrebbero essere milioni di italiani, non ha niente in più degli altri, non ha nulla in più degli altri, anzi, forse ha molte cose meno degli altri in media, solo che per dei momenti fortunati nella vita, più momenti fortunati, più posti giusti al momento giusto, Gigino Di Maio arriva ai vertici della politica. Ma se poi lo sentite parlare, eccetera, eccetera, rimanete un po', dice, ma questo è un uomo comune, non ha niente in più degli altri per essere lì. Chiara Ferragni, per quello che ho visto io, arriva al vertice, ad esempio, di Instagram, adesso è superata da un altro, ma comunque arriva a quel livello e ha un seguito enorme, però, vi dico il però, l'ho sentita parlare, ha fatto un video dove si è messa a parlare, un video di qualche tempo fa, parlava di cose di politica, e ho visto che non riusciva neanche a tenere lo sguardo alla telecamera, la telecamera è una telecamera, la sua telecamera, continuava ad abbassare lo sguardo, perché stava dicendo delle cose che non si sentiva sicura, sapete che le persone a cui parlate che abbassano lo sguardo, si girano mentre vi stanno parlando, e ho detto, ma che fa, è insicura, una mega, una celebrità del web che non riesce a parlare a una telecamera, va, vabbè, a parte questo, ho ascoltato il suo discorso, lei voleva essere, adesso ci penso io, faccio un video, e io che sono una donna di potere, dico le cose, però le cose che ha detto, io mi ricordo, ci sono rimasto, era la prima volta che la sentivo parlare, ci sono rimasto, ci sono rimasto un po' così, ma diceva delle cose banali, delle cose molto spesso senza né capo né coda, cose qualunquiste, come dire, non ci sono più le mezze stagioni, non parlava di mezze stagioni, ma parlava di politica, di cose affine alla politica, ma le diceva in un modo sempliciotto, abbassando lo sguardo, che ha detto, caspiterina, questa c'ha 23 milioni di seguitori, sì, sarà brava per le borsette, per il trucco, eccetera, eccetera, ma in altri campi, parlando di politica, parlando di altre cose, non ci siamo per niente, non è una donna che ha qualcosa in più, parlando di politica, no, per niente, ma naturalmente, anche se non ha, lei nulla a che fare con la politica, e non riesce magari a, a esprimere dei concetti molto complessi, ma delle cose molto più basilari, influenza lo stesso, perché è arrivata alla, è arrivata a una influenza tale che ha del potere sulle persone, pertanto come Di Maio da una parte, Ferragni dall'altra, sono persone che arrivano a poter influenzare gli altri senza avere magari nessuna caratteristica reale o qualcosa in più degli altri che rimangono affascinati, no, lei è più brava nelle borsette, i vestiti, i trucchi e naturalmente chi arriva ai vertici poi ti parla di politica, ti parla di qualsiasi cosa e la gente la segue. Ad esempio, adesso cominciano ad esserci articoli dappertutto di questo Kaby Lame, no, se non so, che è un altro, che è un altro ragazzo italiano che è diventato il re di Instagram, non so quante decine di milioni ha di seguitori e anche lui diventa un ragazzo, un uomo di potere perché ha oltre 100 milioni di seguitori e fa dei video muti dove fa così, cioè non parla e fa così. Ecco, questo diventa, con internet, diventa un uomo di potere, una persona che fa così, così, e basta. Non c'è dietro nessun discorso, non c'è dietro nessuna niente, c'è uno che fa così e ha i titoli sui giornali perché fa così. Ecco, questo per farvi capire che sì, il web crea uomini e donne di potere, ma sono persone che arrivano magari facendo delle cose e poi se non so, su questo Kaby Lame, non lo so, lo metti a parlare di politica, lo metti a parlare di diritti, lo metti a parlare di economia, essi non sanno neanche da che parte girarsi. Questo è il problema. Quindi Chiara Ferragni sì, sono la nonna di potere, si può essere leader anche prendendosi meno sul serio. Lei dice io devo incidere, è arrivato il momento di incidere sulla società. Il fatto è che il web crea queste persone che poi vogliono incidere nella società, incidono, però senza magari avere né competenza, senza né preparazione, senza riuscire magari a fare un pensiero o a costruire un pensiero completo su un argomento. Questo è il problema e spesso si finisce in dichiarazioni sempliciotte, in visioni sempliciotte delle cose, senza che sono sul pelo dell'acqua, non sono approfondite. Questo è un discorso lungo, quello che possono fare adesso gli influencer. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata.